Alla Tirrenia, è arrivata la ristorazione firmata Liga 2. Un'impresa da vocazione internazionale, ma rispettosa delle tradizioni e culture locali. L'obiettivo della compagnia è di far diventare la gastronomia uno dei punti di forza dell'accoglienza a bordo. Sulle navi della Tirrenia e Mobi, gli ospiti avranno la possibilità di gustare prodotti sardi, come salumi, formaggi, vini, e pasta tradizionali. La Tirrenia e la Mobi ancora una volta, tendono a stringere ancora di più il rapporto con la Sardegna che diventa mezzo di produzione della cultura sarda e delle eccellenze. Grazie a tutti!